la via giusta harry james quando dopo la morte di ashton joyne ma tre mesi più tardi george white moore fu sollecitato come si suol dire circa un volume la comunicazione gli venne direttamente dai suoi editori che erano stati e in vero in molto maggior misura quelli di joyne ma quando ebbe luogo il colloquio che in seguito essi proposero egli non fu sorpreso di apprendere come una certa pressione cerca la pronta pubblicazione di una vita fosse stata esercitata su di loro dalla vedova dello scomparso i rapporti di doyne con sua moglie erano stati per quel che white moore ne sapeva una pagina molto singolare la quale fra l'altro si sarebbe presentata come particolarmente delicata per il biografo ma il senso di quello che aveva perduto e perfino di quello che le era sempre mancato la povera donna aveva dato a di vedere fin dai primi giorni della sua vedovanza in modo sufficiente a preparare un osservatore un po iniziato a un atteggiamento di riparazione a una tutela addirittura eccessiva degli interessi legati a un nome famoso george white moore era e ne aveva coscienza un iniziato ma quel che non s'aspettava fu di apprendere che la vedova aveva fatto proprio il suo nome come quello della persona nelle cui mani sarebbe stata meglio disposta a mettere il materiale necessario per la compilazione dell'opera di questo materiale diari lettere annotazioni appunti documenti di ogni genere la signora doyne poteva disporre nel modo più completo in quanto nessuna parte dell'eredità era sottoposta a condizioni di sorta così che ella era libera ora di fare quel che voleva libera in particolare di non far niente quel che doyne aveva disposto se ne avesse avuto il tempo non poteva essere che materia di supposizione e di congettura la morte lo aveva preso troppo presto e troppo improvvisamente e per somma disavventura i soli desideri che si sapesse esser stati espressi da lui erano desideri dai quali era esclusa ogni previsione di morte si era spezzato di schianto per spiegarci il troncone era sbrezzato e bisognava racconciarlo whitermore era ampiamente consapevole di essergli stato molto vicino ma era non meno consapevole della sua relativa oscurità era un giovane un giornalista un critico un uomo che viveva la giornata e che aveva per il momento assai poco come volgarmente si dice da mettere in mostra i suoi scritti erano tutt'altro che numerosi e di piccola mole le sue relazioni scarse e vaghe doyne invece era vissuto abbastanza lungo aveva avuto soprattutto abbastanza ingegno per diventare grande e fra i suoi molti amici dorati anch'essi di grandezza ve ne erano parecchi che quanti conoscevano sua moglie avrebbero trovato più adatti a ispirarle fiducia come che fosse la donna aveva espresso la sua preferenza e l'aveva espressa in un modo così indiretto e discreto da lasciargli una certa libertà da far sentire al nostro giovane scrittore che egli doveva almeno vederla e che in ogni caso c'erano molte cose da discutere egli le scrisse immediatamente la donna fissò con altrettanta prontezza l'ora del colloquio e il colloquio ebbe luogo ma Whitemore ne uscì immediatamente rafforzato nella sua propria idea la vedo a doyne era una donna strana ed egli non l'aveva mai trovata gradevole pure c'era ora nella sua impazienza affannata e maldestra qualche cosa che lo commoveva voleva che il libro fosse una riparazione e l'uomo che tra quanti erano appartenuti alla cerchia di suo marito e la credeva probabilmente di poter meglio manipolare doveva in tutti i modi contribuire a farne una riparazione non aveva preso doyne abbastanza sul serio da vivo ma la biografia doveva riuscire una perentoria risposta a ogni imputazione contro di lei sapeva poco o nulla sul modo di compilare un libro del genere ma ne aveva sfogliato qualcuno e imparato qualche cosa a tutta prima whitermore si allarmò nel vedere che la donna ammirava alla quantità parlava di volumi ma egli aveva già la sua idea al riguardo ho pensato immediatamente a voi come avrebbe fatto egli stesso aveva detto appena si era alzata in piedi davanti a lui lì nel suo vistoso apparato da lutto con grandi occhi neri le grande parrucca nera il grande ventaglio nero e i guanti con il suo aspetto nell'insieme lugubre brutto tragico ma che faceva impressione e che da un certo punto di vista si sarebbe potuto trovare elegante voi siete quello che gli amava di più oh molto e quelle parole erano state più che sufficienti a far girare la testa a whitermore poco importava che in seguito egli avesse ragione di domandarsi se la donna avesse conosciuto Doin abbastanza a pensare bene per essere così sicura in verità per parte sua avrebbe detto che la sua testimonianza in proposito era di valore poco meno che nulla tuttavia non c'è fumo senza fuoco la donna sapeva perlomeno quel che si diceva ed egli non era una persona che la signora Doin potesse avere un qualsiasi interesse ad adurare salirono insieme senza indugio nello studio vuoto del grande uomo che era nella parte posteriore della casa e dava una visione agli occhi del povero Whitermore bellissima ispiratrice su un ampio giardino verdeggiante comune a tutto il lussuoso quartiere qui potete lavorare a meraviglia vedete disse la signora Doin avete questa parte della casa tutta per voi ve la cedo completamente cosicché particolarmente la sera vedete per tranquillità e isolamento sarà l'ideale ideale davvero pensò il giovane guardandoci intorno dopo aver spiegato che lavorando al momento presso un giornale del pomeriggio e avendo di conseguenza per molto tempo ancora occupate le prime ore del giorno sarebbe dovuto andare sempre di sera la stanza era piena del loro amico perduto ogni cosa lì dentro gli era appartenuta ogni cosa che si toccavano era stata parte della sua vita Whitermore ne fu per un momento sopraffatto troppo grande l'onore e troppo grande anche la responsabilità memorie ancora recenti gli tornavano alla mente e mentre il cuore gli prendeva a battere più forte e gli occhi gli si riempivano di lacrime il fardello della sua lealtà alla memoria dello scomparso gli parve quasi eccessivo per le sue spalle alla vista delle sue lacrime anche le palpebre della signora Doin si inumidirono e per qualche istante i due non fecero che guardarsi negli occhi egli quasi si aspettava che la donna prorompesse oh aiutatemi a sentire come so che voi sapete che vorrei sentire e dopo un poco uno dei due col profondo assentimento dell'altro quale dei due non importa qui siamo con lui disse ma fu certamente il giovane prima di lasciare la stanza a dire che lì egli era con loro il giovane cominciò ad andarvi appena gli fu possibile e allora sul posto in quell'incantato silenzio tra la lampada e il fuoco e le tende abbassate una sorta di più intensa consapevolezza lo invase entrava lasciando dietro di sé l'oscuro novembre londinese attraversava la grande casa silenziosa saliva lungo l'ampia corsia rossa della scala intravedendo nel suo cammino soltanto la visione fuggevole di un'impeccabile cameriera dal passo silenzioso o nel vano di una porta un lembo delle regali gramaglie e il tragico volto della signora Doin e poi con un lieve tocco alla porta di perfetta fattura che dava uno scatto così secco e gradevole si chiudeva per 3-4 ore di calda intimità insieme con lo spirito come egli lo aveva sempre esplicitamente chiamato del suo maestro quando fin dalla prima sera gli venne fatto di pensare che in tutta quella faccenda era stato in realtà principalmente attratto dalla prospettiva del privilegio dal fascino di quella sensazione ne rimase sgomento aveva ora modo di riflettere che non s'era dato pensiero alcuno di studiare la questione del libro quanto alla quale c'era già fin d'ora molto da studiare aveva puramente e semplicemente lasciato che il suo affetto e la sua ammirazione per non parlare del suo orgoglio soddisfatto cedessero senza riserve alla tentazione offerta loro dalla signora Doin di dove gli veniva senza esaminare a fondo il problema la certezza poteva cominciare col domandarsi che il libro fosse tutto considerato desiderabile quale incoraggiamento aveva egli mai ricevuto da Eston Doin stesso per un accostamento così diretto così in certo qual modo familiare grande era l'arte della biografia ma c'erano vite e vite c'erano uomini e uomini ricordò confusamente in proposito le parole lasciate cadere in altri tempi da Doin su compilazioni contemporanee o allusioni a come egli stesso facesse delle distinzioni nei riguardi di altri eroi e di altri panorami ricordò perfino quale sembrava a volte essere il pensiero del suo amico circa il modo nel quale la carriera letteraria tranne il caso di un Johnson o di uno Scott grazie alla collaborazione di biografi della statura di un Boswell o di un Lockhart facesse bene ad accontentarsi di essere tramandata l'artista si identificava con la sua opera egli non era che quella ma d'altro lato come avrebbe potuto lui George Whitemore povero diavolo non ghermire a volo l'occasione di passare l'inverno in una intimità così ricca di promesse la cosa lo aveva semplicemente abbagliato era un fatto innegabile non per le condizioni fatte degli editori sebbene fossero quelle che dicevano al giornale ottime ma per Doni stesso per la sua compagnia il suo contatto la sua presenza per quella che si andava palesando ogni giorno più chiaramente come la possibilità di un rapporto più intimo che non quello della vita strano che delle due la morte avesse il minor numero di misteri e di segreti la prima sera che il nostro giovane scrittore si trovò solo nella stanza ebbe l'impressione che lui e il suo maestro fossero veramente per la prima volta insieme la signora Doin lo aveva per lo più lasciato espressamente indisturbato ma due o tre volte aveva fatto una breve comparsa per vedere se si era provveduto a tutto quello che gli occorreva ed egli aveva avuto modo di ringraziarla del discernimento e della premura con cui gli era stata spianata la via lei stessa aveva in qualche misura esaminato il materiale ed era già riuscita a suddividere alcuni gruppi di lettere tutte le chiavi dei cassetti e degli stipiti e le aveva inoltre messe fin dal primo giorno nelle sue mani con utili ragguagli circa l'apparente collocazione di vari documenti in breve la donna lo aveva fatto padrone di tutto nel più ampio senso della parola e avesse goduto o no la fiducia del marito era chiaro che lei almeno ne aveva nell'amico di lui in Whitermord si andò formando tuttavia l'impressione che nonostante tutte queste premura la donna non fosse ancora tranquilla e che una sorta di insopprimibile angoscia andasse di pari passo con la stessa fiducia per quanto piena di discrezione ella era allo stesso tempo sensibilmente presente egli la sentiva attraverso un sottilissimo sesto senso che l'intera vicenda aveva già reso attivo e indugiare nelle ore di quiete insieme al pianerottolo e dietro le porte sorprendeva nel sommesso fruscio delle sue vesti l'inizio delle sue veglie e delle sue attese una sera mentre seduto al tavolo del suo amico si trovava sperduto nei meandri della corrispondenza l'impressione di avere qualcuno dietro le spalle lo fece sussultare e si voltò la signora Doin era entrata senza che egli avesse sentito aprire la porta e quando salzò in piedi di scatto la donna ebbe un sorriso evidentemente forzato spero di non avervi spaventato disse solo un momento ero così assorto per un attimo spiegò il giovane ebbe l'impressione che fosse lui la strana espressione della faccia di lei si fece anche più strana per lo stupore Ashton? sembra così vicino disse Whitemore anche a voi questo naturalmente lo colpì a voi sì dunque la donna esitò non muovendosi dal luogo dove si era fermata nell'entrare ma girando lo sguardo per la stanza come per penetrare gli angoli più oscuri aveva il vezzo di portare il gran ventaglio nero che apparentemente non abbandonava mai all'altezza del naso coprendosi in tal modo la parte inferiore della faccia i suoi occhi piuttosto freddi diventavano allora anche più ambigui qualche volta qui continuò Whitemore si direbbe che sia sempre sul punto di entrare per questo sono trasalito un momento fa è passato così poco tempo da quando egli soleva farlo veramente è cosa di ieri io siedo sulla sua sedia sfoglio i suoi libri usa le sue penne smuovo il suo fuoco esattamente come se essendomi stato detto che non può tardare a rientrare da una passeggiata fossi venuto tranquillamente quassù ad aspettarlo è delizioso ma strano la signora Doyne col ventaglio ancora sollevato ascoltava con interesse e ne siete turbato? no mi piace la donna esitò di nuovo avete mai l'impressione che egli sia sì voglio dire proprio personalmente nella stanza beh come vi dicevo rise Whitemore sentendovi dietro di me evidentemente la mia impressione è stata proprio quella dopo tutto che cosa desideriamo? domandò se non che egli sia qui con noi già come voi diceste che sarebbe stato la prima volta che veniste la donna lo fissò con un'espressione di pieno sentimento egli è con noi pronunciò le parole con enfasi ma Whitemore prese la cosa sorridendo quindi non dobbiamo allontanarlo dobbiamo fare soltanto quello che gli ha gradito oh soltanto quello naturalmente soltanto ma dal momento che è qui e i suoi occhi cupi riparvero accompagnare le parole al di sopra del ventaglio con un vago senso di angoscia vuol dire che è soddisfatto e che vuol soltanto collaborare? certo senza dubbio non si può interpretare che così la donna trattenne un momento il respiro e girò ancora una volta gli occhi per la stanza bene disse sul punto di andarsene ricordate che anch'io desidero soltanto collaborare e quando se ne fu andata Whitemore si sentì abbastanza persuaso che la signora Doin fosse venuta a fargli visita unicamente per vedere se egli si trovasse a suo agio sempre più a suo agio osservò anzi dopo l'episodio perché a mano a mano che si addentrava nel lavoro gli pareva di avvicinarsi ogni giorno di più all'idea della presenza personale di Doin una volta che questa fantasia ebbe cominciato a balenargli in mente egli l'accolse come un'amica la lusingò la incoraggiò ne fece addirittura la sua prediletta non pensando ad altro per tutta la giornata che alla sensazione di sentirla rinascere la sera e aspettando la sera con un'ansia molto simile a quella di una coppia di innamorati in attesa dell'ora fissata per il loro incontro i più piccoli indizi confortavano e confermavano la sua impressione e in capo a tre o quattro settimane egli aveva finito per considerarla una vera e propria consacrazione della sua impresa non veniva così risolto chiaramente il problema dell'atteggiamento che Doin avrebbe tenuto di fronte a quello che essi facevano quello che essi facevano era ciò che egli desiderava ci facesse ed essi potevano continuare un passo dopo l'altro senza scrupoli o dubbi a tratti Whitemore si sentiva addirittura esaltato da questa certezza in certi momenti in cui penetrava profondamente nei segreti di Doin era in particolar modo gradevole essere in grado di affermare che Doin desiderava per dire così che egli li venisse a conoscere andava apprendendo molte cose insospettate scostava molte cortine forzava molte porte scioglieva molti enigmi frugava insomma come si suol dire dietro quasi tutte le quinte e durante uno tra i più misteriosi di questi vagabondaggi dietro le quinte una brusca svolta occasionale gli dette l'impressione più intensa provata fino a quel momento di trovarsi ad un tratto veramente in un modo intimo e sensibile faccia a faccia col suo amico così chi a fatica sarebbe stato in grado di dire al momento se l'incontro avvenisse nell'angusto corridoio nella inesorabile strettoia del passato o nell'ora e nel luogo in cui effettivamente si trovava era il 1867 o era soltanto l'altro lato del tavolo fortunatamente in un modo o nell'altro anche alla luce più volgare che la pubblicità potesse fargli convergere sopra ci sarebbe stato il gran fatto del modo nel quale Doin andava rivelandosi si rivelava in un modo stupendo ancor meglio di quanto un ammiratore come Whitermore avrebbe potuto supporre pure allo stesso tempo come avrebbe potuto quell'ammiratore spiegare a chi che sia il suo particolare stato d'animo non era una cosa di cui si potesse parlare era una cosa che si poteva soltanto sentire c'erano momenti per esempio nei quali mentre stava chino sulle carte l'alito lieve del suo ospite morto gli passava tra i capelli con la stessa tangibile evidenza con la quale i suoi propri gomiti erano posati lì sul tavolo davanti a lui c'erano momenti nei quali fosse stato capace di alzare gli occhi il lato opposto del tavolo gli avrebbe mostrato il suo compagno con la stessa vivezza con la quale la lampada schermata gli mostrava la sua pagina che in quella congiuntura egli non fosse capace di alzare gli occhi era far suo perché la situazione era governata nulla di più naturale da profonde delicatezze e sottili timidità dal timore di un gesto troppo improvviso o troppo violento ma l'atmosfera era tale da rivelare nel modo più chiaro che se Doin era presente non lo era tanto per sé quanto per il giovane sacerdote del suo altare egli esagerava intorno e indugiava andava e veniva lo si sarebbe quasi detto tra i libri e le carte un bibliotecario silenzioso e discreto il quale rendesse i particolari servigi e porgesse il tranquillo aiuto che i letterati prediligono watermore stesso frattanto andava e veniva cambiava di posto vagava qua e là in cerca di notizie ben definite o vaghe e più di una volta quando tirando fuori un libro da uno scaffale e trovandovi segni tracciati dalla matita di Doin si lasciava sedurre da una traccia e la perdeva aveva sentito che sulla tavola dietro le sue spalle qualche documento veniva leggermente toccato e rimosso e aveva al suo ritorno effettivamente trovato qualche lettera che aveva smarrita messa nuovamente sotto i suoi occhi qualche groviglio sdipanato dalla pagina di un vecchio giornale aperto proprio alla data che gli occorreva come avrebbe fatto a volte a mettere la mano fra tanti ripostigli proprio sulla precisa scatola o sul cassetto che potevano essergli d'aiuto se il suo misterioso collaboratore non avesse con bella preveggenza sollevato un poco il coperchio o tirato fuori il cassetto a metà proprio nel modo atto a richiamare la sua attenzione tutto considerato mancamenti e intervalli durante i quali se foste stati veramente capaci di alzare gli occhi avreste visto qualcuno un po' assente e troppo rigido davanti al fuoco qualcuno tenervi gli occhi addosso con uno sguardo un po' più fisso che nella vita che questo rapporto di buon auspicio fosse effettivamente esistito e durato due o tre settimane fu sufficientemente dimostrato dai sintomi d'angoscia di cui il nostro giovane scrittore si avvide allorché per una ragione o per l'altra a partire da una certa sera egli aveva cominciato a sentirne la mancanza il primo indizio quando smarrita una meravigliosa pagina inedita essa dovunque frugasse rimase stupidamente e irreparabilmente introvabile fu la sensazione improvvisa e stupita che il suo stato di grazia era dopo tutto esposto a qualche offuscamento e perfino a qualche depressione se nel piacere dell'impresa Doin e lui erano all'inizio stati insieme la situazione a pochi giorni di distanza dai primi segni che egli ne aveva avuto subì uno strano mutamento e quei rapporti cessarono quella era la cosa che non andava disse Whitermore tra se e se quando nella sua soddisfatta visione d'insieme del materiale un'impressione di mera massa e quantità si sostituì alla compiaciuta prospettiva di una chiara via da seguire e di un passo spigliato per cinque sere non si dette per vinto poi mai seduto al tavolo vagando per la stanza prendendo appunti soltanto per fare qualche cosa guardando fuori dalla finestra attizzando il fuoco facendo strani pensieri e cercando di cogliere segni e suoni non sospettati o immaginati ma vanamente desiderati e invocati finì col persuadersi che almeno per il momento egli era stato abbandonato a se stesso la cosa straordinaria fu allora che il non sentire la presenza di Doin lo rese non solamente triste ma anche in maggior misura irrequieto era in certo qual modo più strana cosa che egli non ci fosse di quanto fosse mai stato strano il fatto contrario strana cosa in verità a tal punto che alla fine i narvi di Whitermore ne furono incomprensibilmente scossi essi avevano accettato con relativa calma quanto apparteneva a un ordine di cose impossibile a spiegarsi assurdamente riservando la crisi più acuta per il ritorno alla normalità per il momento nel quale all'irreale si sarebbe sostituito il reale era giunto al punto di non dominarli più quando finalmente una sera dopo aver resistito un'ora o due uscì addirittura guardandoci le spalle dalla stanza soltanto quella sera per la prima volta era diventato impossibile rimanervi senza nessuna intenzione precisa ma ansimando un poco e innegabilmente spaurito attraversò il solito corridoio e arrivò in cima alle scale di lassù vide la signora Doin con gli occhi levati verso di lui dal basso esattamente come se avesse saputo che egli stava per venire e più singolare di ogni altra cosa fu il fatto che sebbene egli non avesse coscienza di aver pensato di ricorrere a lei e fosse soltanto stato spinto a cercare sollievo nella fuga la vista della posizione in cui ella si trovava gliela fece accettare come necessaria quasi immediatamente la sentisse come parte di un qualche incubo mostruoso che andasse calando su entrambi fu una cosa meravigliosa come se in quel normalissimo vestibolo moderno nel cuore di londra fra i tappeti di Tottenham Court Road e la luce delle lampade elettriche salisse a lui dall'alta signora in nero e da lui nuovamente scendesse a lei la certezza di sapere che cosa ella intendesse atteggiandosi come se egli fosse al corrente di tutto discese immediatamente la donna entrò in una stanzetta a terreno e lì con la porta chiusa ancora silenziosi e turbati in viso essi si trovarono per prima cosa di fronte a confessioni cui quei due o tre movimenti avevano subitamente dato vita come gli si chiarì in mente la ragione che gli aveva fatto perdere la compagnia del suo amico whitermore trattenne il respiro è stato con voi con queste parole tutto fu detto detto al punto che nessuno dei due dovette dare spiegazioni e che quando la domanda che cosa sta succedendo passo rapida tra loro parve fosse stata pronunciata non meno dall'uno che dall'altra whitermore girò gli occhi per la stanzetta luminosa nella quale per notti e notti la donna aveva vissuto la sua vita come lui la sua al piano di sopra era graziosa accogliente rosata ma ella vi aveva sentito volta a volta ciò che egli aveva sentito udito quello che lui aveva udito l'effetto che ella faceva lì con quel suo fantasioso nero piumato e invadente sullo sfondo intensamente rosa era quello di una qualche stampa colorata decadente di un qualche manifesto della nuovissima scuola sapevate che mi aveva lasciato gli chiese la donna era evidentemente impaziente di chiarire la cosa questa sera sì ho capito tutto sapevate prima che egli era con me e l'agito ancora sentivo che non era con me ma sulle scale sì ebbene passava spesso era nella casa e davanti la vostra porta ebbene si siete whitermore mentre ella ancora una volta non trovava modo di proseguire se mi fermavo qualche volta lo sentivo comunque soggiunse questa sera dalla vostra faccia ho capito in che stato vi trovate siete venuta fuori per questo ho pensato che sareste venuto da me a queste parole egli portò la mano verso quella di lei ed essi rimasero per un momento così silenziosi tenendosi per mano non c'era nessuna presenza singolare ora né per l'uno né per l'altro nulla di più singolare che la presenza dell'uno e dell'altro ma il luogo era divenuto subitamente sacro e whitermore nella sua angoscia vi ritornò che cosa succede dunque io non voglio far altro che seguire la via giusta e la rispose dopo un istante e non è quella che facciamo me lo domando voi no se lo domandava anche lui per quel che sembra a me la via giusta è questa ma dobbiamo pensarci bene dobbiamo pensarci fecei con la donna e pensarono pensarono intensamente il resto della sera insieme e pensarono indipendentemente in seguito whitermore poteva almeno garantire per sé giorni e giorni egli interruppe per qualche tempo le sue visite e il lavoro cercando mentre riandava con la mente ai giorni trascorsi di sorprendersi in qualche errore che potesse spiegare il perturbamento che sarà prodotto aveva forse seguito su qualche questione importante ho dato l'impressione di seguire una via o un'interpretazione sbagliate aveva scioccamente falsato o inadeguatamente calcato la mano su qualche punto finalmente tornò sul posto con l'idea di aver intrevisto due o tre questioni che forse era stato sul punto di arruffare dopo di che passò lassù un altro periodo tormentoso seguito in breve da un nuovo colloquio al pian terreno con la signora doyne ancora nervosa e agitata è lì? sì, lo sapevo ribatte cupa la donna con una strana aria di trionfo poi come per chiarire la cosa da me non è più ritornato e nemmeno da me per collaborare disse Whitermore la donna rimase pensosa non per collaborare non capisco sono in alto mare per quanto faccia sento di non essere sulla via giusta e l'ho sommerso un momento nel suo pomposo dolore come lo sentite? come? attraverso le cose che accadono le più strane cose non saprei descriverle e voi non ci credereste oh sì, ci crederei mormorò la signora doyne ebbene egli si intromette Whitermore cercò di spiegare da qualunque parte mi volti lo trovo e l'ascoltava in tenta lo trovate? lo incontro sembra ergersi davanti a me la signora doyne aspettò un momento con gli occhi fissi nel vuoto intendete dire che lo vedete? ho l'impressione che potrei vederlo da un momento all'altro mi sfugge, mi intralza poi aggiunse ho paura di lui? domandò la signora doyne egli riflette diciamo di quello che faccio ma che cosa fate dunque di così terribile quello che voi mi avete proposto penetro nella sua vita e la palesò ora nella sua gravità un nuovo sgomento e questo non vi piace? ma piace a lui? questo è il dilemma noi lo mettiamo a nudo lo esibiamo come si dice? lo diamo in pasto al mondo la povera signora doyne come vedesse la minaccia portata alla sua difficile riparazione guardò fissamente un attimo davanti a sé anche più cupa e perché non dovremmo farlo? perché non sappiamo ci sono natura ci sono vite che si rifiutano può darsi che egli non lo desideri? disse Whitermore non gli abbiamo mai domandato come potevamo? egli tacque un momento ebbene domandiamoglielo ora dopo tutto fin qui il principio del nostro lavoro non ha avuto altro significato e abbiamo fatto una proposta ma se è stato con noi abbiamo avuto il suo consenso Whitermore parlò ora come se sapesse ormai che cosa pensare egli non è stato con noi è stato contro di noi e allora perché pensavate? quello che pensavo in principio? che voleva farci sentire la sua approvazione? perché nella mia ingenuità iniziale mi ingannavo ero non so come dire così esaltato e felice che non capii ma ora finalmente capisco egli voleva soltanto comunicare si sforza di farsi avanti dalla sua ombra si protende verso di noi dal suo mistero ci fa oscuri segni del suo orrore orrore? si lavò senza voce la signora Doyne coi ventagli contro la bocca di quello che facciamo ormai ormai Whitermore era in grado di ricostruire tutto ora capisco che in principio ebbene non c'era che da sentire la sua presenza ed è durne che egli non era indifferente e la bellezza della cosa mi portò fuori strada ma egli è lì come una protesta contro la mia vita gemette la signora Doyne contro ogni vita egli è lì per salvare la sua vita per farsi lasciare in pace quindi voi rinunciate disse la donna con una voce che suonò quasi come un grido egli non poteva altro che ribadire egli è lì come un monito a questo per un momento i due si guardarono nel fondo degli occhi voi avete paura perurpa infine la signora Doyne Whitermore accusò il colpo ma insistette egli è presente come una maledizione con questo si separarono ma per due o tre giorni soltanto le ultime parole della donna continuavano a risuonare in tal modo alle orecchie di Whitermore che tra il suo bisogno di darle una risposta veramente definitiva e un altro bisogno di cui parleremo fra poco egli sentì di non potersi ancora ritirare dall'impresa finalmente ritornò allora solita e trovò la donna al solito posto sì ho paura dichiarò come se avesse ben meditato la cosa e ne misurasse ora tutto alla portata ma ho l'impressione che voi non ne abbiate la donna rimase interdetta evitando di pronunciarsi di che cosa avete paura? di questo che se insisto finirò per vederlo e poi? oh poi disse George Whitermore rinuncerei la donna parve soppesare la cosa con la sua aria teatrale ma grave io penso che dovremmo avere un segno sicuro capite? desiderate che io ritenti? la donna esitò voi capite che cosa significherebbe per me rinunciare ah ma non è necessario che voi rinunciate disse Whitermore la donna rimase stupita ma un momento dopo continuò significherebbe che egli non può ricevere da me ma si interruppe come per disperazione che cosa dunque? nulla disse la povera signora Doyne egli la fissò ancora un momento ho pensato anch'io a un segno sicuro ritenterò ma mentre egli stava per allontanarsi la donna ricordò solo temo che stasera non ci sia niente di pronto né la lampada né il fuoco non preoccupatevi disse Whitermore prima di cominciare a salire troverò tutto a questo la donna rispose che a ogni modo la porta della stanza era probabilmente aperta e si ritirò nuovamente come per attenderlo ma non ebbe da aspettare a lungo per quanto con la porta della sua stanza spalancata e l'attenzione tesa al massimo la durata dell'intervallo potesse sembrarle non proprio quale al suo ospite dopo qualche tempo lo sentì sulle scale e subito dopo lo vide apparire nel vano della porta sebbene non precipitoso ma anzi quanto al rumore dei passi restivo e vago egli si mostrò almeno altrettanto rivido e sgomento rinuncio dunque lo avete veduto sulla soglia di guardia di guardia egli lo guardò al di sopra del ventaglio con gli occhi sbarrati distintamente immenso ma vago oscuro terribile disse il povero George Whitermore la donna parve ancora dubitosa non siete entrato il giovane volse gli occhi altrove egli lo vieta voi dite che quanto a me non è necessario e la continuò un momento dopo ebbene è dunque necessario che lo vediate domandò George Whitermore la donna indugiò un attimo che rinunci sta a voi decidere quanto a se stesso egli non poteva infine far altro che lasciarsi cadere sul divano con la testa china fra le mani in seguito non seppe mai dire quanto tempo fosse rimasto a sedere così ricordava soltanto che la prima cosa di cui fosse successivamente conscio era stato di trovarsi solo tra gli oggetti preferiti di lei comunque proprio mentre si rialzava in piedi con quella sensazione egli si trovò nuovamente sotto la luce al caldo contro lo spazio rosato di fronte all'imponente presenza nera e profumata della donna al primo sguardo nel punto che ella lo fissava sopra la maschera del ventaglio con gli occhi più grandi e smarriti che mai egli capì che la signora Doyne era stata di sopra e allora per l'ultima volta essi si trovarono insieme di fronte alla loro strana domanda lo avete veduto? domanda Whitermore in seguito dal modo indimenticabile quel quale ella chiuse gli occhi come per farsi forza e li tenne stretti a lungo in silenzio egli dovette concludere che rispetto all'indicibile visione della moglie di Ashton Doyne la sua era stata una cosa da nulla prima ancora che la donna aprisse bocca capì che tutto era finito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti